20 brevetti internazionali, 7 stabilimenti di produzione, clienti in 60 paesi. Questi i numeri di Besenzoni, la storica azienda di Sarnico che da oltre 40 anni è leader indiscussa nella produzione di accessori per la nautica. Dal 1967 Besenzoni regala all'armatore un modo sempre nuovo di vivere la sua barca. La plancetta di poppa con scaletta, ad esempio, oggi uno standard nelle barche da diporto, è stata introdotta negli anni 70 proprio da Giovanni Besenzoni e fu subito un successo. Negli anni 80 Besenzoni lancia le prime passerelle idrauliche con telecomando, una vera rivoluzione. Tradizione, innovazione, tecnologia e ricerca, questi i punti di forza di Besenzoni oggi come allora. Ogni prodotto, dal più semplice al più complesso, viene eseguito minuziosamente in ogni fase del processo di produzione. Dalla progettazione con un pool di professionisti dedicato, alla lavorazione con impianti e macchinari all'avanguardia, che consentono di trattare il materiale al meglio e il dettaglio non trascurabile nel pieno rispetto dell'ambiente. Dalla progettazione con un'ambiente. Besenzoni sviluppa prodotti eccellenti, di grande impatto estetico e funzionale, e le sue tecnologie garantiscono la più alta affidabilità. Le passerelle, ad esempio, sono movimentate da telecomandi a raggi infrarossi, a concentrata direzionalità per la massima sicurezza d'impiego. Besenzoni non propone semplicemente accessori, offre soluzioni. La sua gamma è davvero ampia e ce n'è per tutti i gusti. Si passa dalle innumerevoli versioni di passerella, alle gruette idrauliche per fly o per poppa, fino ai supporti per tavoli, alle poltrone guida idrauliche ed elettriche e alla più recente linea di tettucci per hardtop a scorrimento automatizzato. Alla produzione di serie si affiancano le soluzioni custom, oggi pensate soprattutto per l'industria dei mega yacht, alla quale è dedicata la nuovissima super yacht di Vision. Besenzoni collabora in sinergia con gli architetti e i cantieri affinché anche i progetti più originali e complessi diventino una realtà. Grazie alla scelta dei cromi, alla cura estetica e ai vari sistemi a scomparsa, ogni prodotto Besenzoni si armonizza perfettamente con le linee dell'imbarcazione per la massima pulizia del design. Creatività, tecnologia, innovazione pura, il sogno prende forma, il risultato sorprende e stupisce sempre. Con le soluzioni Besenzoni, la vita a bordo è più semplice, confortevole, ricca di nuovi piaceri. Come con Sipario, la nuovissima finestra tenuta stagna perfiancata, particolarmente adatta ai yacht che vanno dai 90 ai 200 piedi. I suoi sensori ne consentono l'apertura in totale sicurezza per godere dei suoni e dei profumi del mare ad un livello dell'imbarcazione fino ad oggi impensabile. Concentrato di tecnologia pura e design, i prodotti custom Besenzoni sono completamente automatizzati. La porta laterale elettrica scomparsa stupisce e seduce. La vetrata divisoria, azionata da un semplice pulsante, trasforma magicamente gli ambienti a bordo per una nuova e migliore concezione degli spazi. Sempre un passo avanti coi tempi, l'azienda ha recentemente inaugurato la Besenzoni Titanium Division, che ha dato vita a Titanium, nuovissima e già premiata passerella in titanio, materiale avveniristico che fa il suo ingresso nel settore nautico. Telescopica e rientrante in due stadi, Titanium svolge la doppia funzione di passerella a gruetta e può sollevare fino a 700 kg. La multifunzionalità è una caratteristica importante che contraddistingue la maggior parte dei prodotti Besenzoni. La passerella Genius, ad esempio, da passerella a scomparsa, si trasforma rapidamente in scala bagno o in scala d'attacco in banchina. Per un armatore, il piacere di una vacanza senza problemi non ha uguali. Besenzoni segue il cliente per tutto il ciclo di vita del prodotto, con 166 unità operative per l'assistenza tecnica dislocate su tutto il globo e coordinate 365 giorni all'anno dal proprio customer service interno. Portabandiera dell'Italian Style nel mondo, nel segno della tradizione e dell'innovazione, Besenzoni si riconferma ad oggi il riferimento internazionale indiscusso nel panorama dell'accessoristica nautica mondiale. Iscriviti al nostro canale